Amici di Canale 5 Raimondo, perché siamo così eleganti, tu in e smochini, io tutta sbrillantata così? Per ricordare agli amici di Canale 5 che sabato 28 febbraio parte il nostro show Come si chiama? E come si chiama? È Sandra Raimondo Show, per forza A che ora vai in onda? Alle 20 e 30 Ha capito, tutti i sabati? Beh, primo sicuro, poi dopo Insomma, comunque, sabato 28 febbraio su Canale 5, Sandra Raimondo Show No, show, show, show No, show, show E come si dice? Show, show